ariete giornata splendida per cominciare la settimana e di energie ne hai da vendere forse arriverà una notizia che ti spiazzerà toro il partner chiede amore passione attenzione ma tu fai finta di non sentire o meglio sei preso da altro cerca di mantenere gli equilibri di coppia gemelli perderai la pazienza con chi non ha colto il valore del tuo lavoro e sarà facile sbattere qualche porta oggi sei pronto alle conseguenze del tuo gesto cancro oggi potresti essere gentile con uno sconosciuto per strada e poi ritrovartelo seduto in sala riunioni per un progetto davvero importante per il tuo lavoro leone se sei tutto preso dal lavoro oggi potrebbe arrivare la conferma professionale che attendi da tempo in ogni caso e situazione venere domina vergine ti sveglierai pensieroso e ogni cosa sarà per te motivo di lunghe riflessioni per fortuna qualcuno in serata riuscirà ad alleggerirti mente anima e cuore bilancia la settimana non poteva cominciare meglio con urano che ti dà tutto il suo supporto con qualche bella notizia e qualche inaspettata conferma scorpione la parlantina non ti manca e anche quel filo di piacere nelle vendette servite fredde con gusto ne uscirai decisamente vittorioso sagittario la sincerità prima di tutto anche a costo di far male alcuni comportamenti non sono stati proprio limpidi e tu sei così onesto che non ami dubitare di chi ti avvicino capricorno oggi avrai bisogno di amici corri sempre dietro a mille impegni ma gli affetti sono sempre per te il centro di tutto e oggi saranno garanzia di sostegno acquario giove ti aiuterà a fare ordine rimandare non renderà meno dolorose scelte difficili ma che vanno prese pesci oggi potresti anche cominciare a sentire i violini e le farfalle nello stomaco del resto venere ha poteri incredibili